Buongiorno, mi chiamo Tony Luffreda e sono un senatore canadese. I miei genitori sono immigrati dall'Italia nel 1962 a Montreal. La mia famiglia si è integrata nella grande famiglia canadese. Ha lavorato duramente, ha cresciuto una famiglia, ha contribuito al paesaggio sociale ed economico e ha instillato in noi valori importanti che hanno plasmato la mia vita. Tra questi, l'amore per la nostra lingua madre. Siamo indubbiamente canadesi, ma procediamo a vivere e respirare il nostro patrimonio italiano. La mia famiglia e la nostra comunità sono orgogliose di parlare italiano. Nel celebrare la Settimana della lingua italiana nel mondo, mi unisco a 1.5 milioni di canadesi di origine italiana e a tutti gli italiani nel mondo per onorare il nostro patrimonio e la nostra lingua. Insieme dobbiamo continuare a promuovere e sostenere questa ricca eredità. Grazie a tutti.